Sicuramente l'agopuntura è una delle strategie terapeutiche più importanti nella mia metodologia PNEI 4U. L'agopuntura è una scienza antica ed è basata su alcuni meccanismi in parte noti, in parte ancora da scoprire. Come sappiamo ogni organo ha una sua attività elettrica. Che cosa fa l'agopuntura in realtà? L'agopuntura consiste proprio nel trattamento di questi punti ting superficiali che fanno parte dei meridiani di agopuntura e che corrispondono all'attività elettrica profonda dell'organo che si superficializza. In medicina sappiamo tutti che un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma piuttosto che un elettromiogramma, sfruttano proprio questo principio. In realtà, poiché il nostro corpo genera energia elettrica e gli ioni positivi e negativi viaggiano nell'acqua di cui è costituito il nostro organismo emergendo, come dicevo, alla superficie del corpo nei punti ting. In questo modo possiamo dire che attraverso un'ago d'agopuntura noi possiamo fornire all'organismo delle istruzioni elettriche in controcorrente e andare quindi a equilibrare un'attività energetica che può essere disregolata. Perché un ragazzo come Christian può avere bisogno dell'agopuntura? In questo caso Christian, che studia ed è sottoposto quindi a un regime anche di lavoro molto intenso, presenta spesso dei segni di stress, dorme male, a talvolta delle piccole crisi di ansia, motivo per cui si rivolge a me per risolvere questi suoi sintomi attraverso l'agopuntura. Quello che farò oggi e in questo momento è una terapia di riequilibraggio del sistema neurovegetativo che faccio vedere subito. Procedo quindi con l'infissione dei punti di agopuntura proprio nei punti di controllo del sistema neurovegetativo. Gli aghi sono ovviamente use e getta, quindi vengono assolutamente cestinati subito dopo l'utilizzazione ed ecco vedete che seleziono proprio i punti che servono a controllare e a riequilibrare il sistema neurovegetativo. Questa tecnica di riequilibrio del sistema neurovegetativo che è utile sia nei casi di insonnia che di ansia è veramente una delle strategie principali del mio metodo PNEI 4U. Diciamo che un ciclo medio è di circa 8-10 sedute, la frequenza è settimanale e possono essere ripetute tutte le volte che se ne abbia necessità. Alla fine Christian proverà una piacevole sensazione di rilassamento. Questa seduta darà a Christian la sensazione di aver dormito 8 ore e quindi di aver fatto una nottata di sonno profondo e intenso.